Complimenti perché abbiamo visto una nocerina molto molto bella che ha messo tanto in difficoltà questo Verona. Sì, noi giochiamo sempre così, proviamo a mettere in difficoltà qualsiasi squadra, però i risultati non stanno venendo, però se continuiamo così sicuramente verranno. Come ti senti di giudicare questa partita? Il bicchiere è mezzo pieno, mezzo vuoto, meritavate qualcosina in più secondo te? Secondo me sì, perché abbiamo creato tantissime, non siamo riusciti a fare dei gol, però il calcio è fatto così. Com'è la vostra classifica? Rispecchia il vostro vero valore o vi manca qualcosa secondo te? Secondo me potevamo essere un po' più su, però come ho detto prima il calcio è fatto così, però noi se continuiamo così sicuramente alla fine del campionato non saremo lì dove siamo. Come è stato il ritorno a Verona? È stato bello, è sempre bello tornare qui a Verona perché giocare in questo stadio con questa gente è sempre bello. C'è il rammarico di non essere tornato a Verona a poter giocare una stagione da protagonista? Sì, quello sì, però io cerco di andare per la mia strada, di fare le mie cose e poi se un giorno tornerò mi farà piacere. Piacerebbe tornare a Verona? Sì, quello sì, perché ho vissuto 4-5 anni qua e mi fa molto piacere tornare.